La geografia del brutale assassino di Natale Naser Batiari, 21enne montenegrino residente nel campo Panareo a Lecce e ritrovato morto in una scarpata a Manduria, è minuziosamente ricostruita nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta per i tre presunti assassini nelle scorse ore al margine della convalida del fermo. Ed eccoli i frame delle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di ricostruire le tappe dell'esecuzione e risalire quali presunti responsabili ai 23enni Simone Di Noi e Domenico Doria e il 20enne Vincenzo D'Amicis, quest'ultimo nipote di Vincenzo Stranieri alias Stellina, ritenuto storica figura apicale dell'omonimo clan SCU. E il 22 febbraio, alle 20.58 le telecamere di piazza Vittorio Emanuele a Manduria immortalano l'arrivo di Natale Naser in compagnia di due amiche a bordo di una 500. Alle 23.21 all'auto della vittima si avvicinano due giovani uomini. Sono gli stessi immortalati pochi minuti prima nella vicina via Nettuno, che avevano raggiunto a bordo di un monopattino. La vittima e i due accompagnatori, identificati poi in Vincenzo D'Amicis e Domenico Doria, raggiungono il bar nel quale Natale Naser sarà coltellato per la prima volta. Nel decreto di fermo, in riferimento a questa prima fase, le parole del PM sono agghiaccianti. Intercettate, le urla della vittima erano strazianti, scrive, tali da rimbombare nella piccola piazzetta quella adiacente. Nonostante ciò, aggiunge, nessuna chiamata è stata fatta alle forze di polizia per segnalare un fatto tanto grave. Le telecamere riprendono poi l'uscita dal bar. Il 21enne, già ferito, è accompagnato da uno dei suoi presunti aggressori. L'altro li precede qualche passo più avanti, probabilmente per evitare intoppi lungo quel tragitto a piedi, fino all'auto in cui Natale sarà caricato. Le fasi successive, in assenza di telecamere, sono state ricostruite tramite le intercettazioni e qui entra in gioco anche il terzo arrestato, Simone Di Noi. Alle 23.46, in un'area di smessa dove si teneva un tempo, una fiera per animali, avviene il primo brutale pestaggio, con coltellate, calci e pugni. Alle 23.52 raggiunto il cavalcavia della strada vecchia Oria San Cosimo, il lancio del cadavere al di là del guardrail, verso la scarpata sottostante dove sarà ritrovato la mattina successiva. Le altre immagini cruciali sono quelle che hanno immortalato il ventenne d'amicis in compagnia del nonno Vincenzo Stranieri, quando intorno a luna, a piedi, avrebbero raggiunto la 500 della vittima e, intercettati, costretto a suon di minacce, le due amiche di Natale a scendere dall'auto, portata via da nonno e nipote, insieme al cellulare del ventunenne assassinato poco prima. Nell'escursione è stato conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo della vittima. Il pool difensivo dei tre arrestati, composto dagli avvocati Franz Pesare, Domenico San Marco e Armando Pasanisi, attende di conoscere quali ferite abbiano cagionato la morte della vittima e in quale arco temporale quest'ultima si sia consumata. Solo così, fanno sapere i legali a Telerama, saranno chiari i ruoli e responsabilità di ciascuno dei tre indagati.